Ciao, mi chiamo Fabio, i miei amici anche Angelo Sto lavorando per poter diventare l'antelato professionista e potermi togliere parecchie soddisfazioni Mi ispira ogni giorno vedere molti professionisti che sono partiti dal stesso punto in cui sono partito io e sono riusciti ad arrivare a quei livelli lì e so che ci posso arrivare anch'io e quindi sono qui per raccontarvelo Sono con questi ragazzi qui perché hanno sviluppato un progetto molto interessante Se mi dovete scrivere i tre aggettivi, competitivo perché mi piace sempre fare tutte le cose, tutte fatte bene e farle meglio di tutti Sono Rale perché sono una persona che principalmente anche se le cose non vanno bene e so che bisogna prenderla con filosofia E paziente perché ogni cosa avviene col tempo